Sì, noi ci tenevamo a fare tutta cura nella prima mattina in casa, quindi durante il primo tempo stavamo andando a Valuccio e nello spiego ci siamo guardati un pochino e ci siamo rientrati Sì, noi siamo arrivati a tutti determinati, abbiamo fatto stare tutta, poi abbiamo fatto la prima attiva, la società è di vincere, ci teneva con una retta cura e penso che sia stato sia questa segretaria che è la testa di scelta. Quindi, non ci dice se fosse una cultura personale e l'esperienza della scelta? Ma io penso che abbiamo fatto un'ottima donna di squadra, siamo arrivati a 10, e quindi, non è più il risultato, mi sembra oltre, poi magari con una mattina in più ci giochiamo proprio la scelta di off, però in definitiva è un buon capire da qualche persona che mi ha fatto, non so se io credo sia stato un'ottima donna di squadra, Grazie da voi Grazie e buono Grazie Grazie